F*** 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 Hi ragazzi io sono Gallari e oggi siamo sfortunatamente ancora con boxing ma fortunatamente per voi che non guarderete mai questo video e quindi non assistete mai a questo scempion Siamo nelle zone wars oggi per chi non sapesse quali siano le zone wars sono praticamente 16 persone in una mappa piccolissima, che si prendono anche zotti fortissimo questa mappa non l'ho mai provata devo essere sincero non devo essere sincero, non l'ho mai provata e fatta che mappa è? ehm mi fa abbastanza schifo è figa praticamente però non mi piace ma abbiamo un sentimento di meno uguale no non credo che sto facendo una rotation incredibile anche perchè mi guarda che è un percetto aspetta perchè c'è un mongolo che mi faccia vi racconto ragazzi se giocate alle zone wars non cusciate mai perchè non voglio fare incitamento all'odio perchè mi hanno già buttato giù un video per incitamento all'odio senza senso però ma non manco una cura madonna che cura è in questo caso sono le bandit nelle zone wars ma pure io poter morire di certo direi che questa prima round sta venendo un po' schifo sto morendo male del resto come la vita si che tipo è male io questo abbiamo tutti lo stesso loot lo sbaglio ok il mio shield abbiamo tutti lo stesso loot questa cosa mi piace mi piace devo essere sencino così che nessuno è avvantaggiato il loot fa schifo però almeno fa schifo almeno facciamo tutti schifo almeno facciamo tutti schifo è white sto tipo come credo siano tutti quanti in una mappa white ok ok non ti piace uno non si dice due ah ok non ti piacciono le persone di colore ecco mi piacciono però non non su fort ti piacciono le persone di colore hai capito questo è un'insulta razziale si è un'insulta razziale verso i bianchi e visto che verso i bianchi non ne frega nulla a nessuno perchè non esiste i razzi però non toccate i nostri amici africani qualsiasi razza può essere inserita i bianchi non non hanno disegnato non c'è un'insulta dei bianchi perchè sono la maggioranza quindi in realtà non lo sono nemmeno la maggioranza sono la minoranza come no? no vabbè che mi migliori solo che stanno un miliardo e mezzo di cinesi e un miliardo e mezzo di indiani non sono la maggioranza i giapponesi pure se sono bianchi non li puoi contare come i rupee se non li sto chiamando quindi e com'è fatta a diventare la partita di zonwars un tol craziale non c'è un miliardo non c'è un miliardo ma tu sei ancora vivo sii ancora vivo io ho quello con live il ragazzo con live il ragazzo con live il ragazzo con live eh per prendere i 10 non si prende così facile eh ed ed Che c***o mi ha vinto il 10 Allora, vuoi dirai il zio? Eita Sai com'è? Zio, ti spinge Oddio Dai Credo proprio che morirò Uh Ah, c***are, dai Ma che tristezza Addirittura terzo Cioè De secondo Vabbè Cioè, boxing secondo Essere superati da boxing È veramente una cosa triste Cosa vuole giusto? È problemo Ah, ah, è cambiato il loot, dai Ma lo è che sta sempre a mancui Ma sempre dall'altra parte della mappa A me per la seconda volta A me per la seconda volta Questo ragazzo, vedete Questo non li ritardate Questo non è che va insultato Per la... Questo non è che va bullizzato Non i neri La gente che puscia Per favore Non mi segnate il video Cominciare Basta Di no E niente Tutti che vogliono Billzeitare con me Sì, che vogliono Billzeitare con boss Sei troppo big Dove devo lì più Grande, grande Chiunque tu sia Sei un bomb Come è fico fare i tunnel Se posso lo immaginate Perché lo puoi fare È solo big Chi non sa fare il tumore Che fa Il tunnel Non il tumore Il tumore Non gioca nulla a farlo Basta ballare dopo Dopo una kill Su una è fregata Il tumore Su una fregata Come ho fatto Mamma mia Work out Perché non vincere Il suo diritto Sono il player più scasso Che si sia mai visto Sono il player più terribile Codifica in sovraccarico Codifica in sovraccarico Sta laggando Ma che cazzo Vabbè Basto pure la qualità Vabbè Anche sia La cosa speciale La qualità Non mi dico La qualità del video Come intrattenimento La cosa del video Come intrattenimento Che lo fa Come video La salita Non mi dico Perchè 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 Sono allucinantemente bravo, questo genio. Guarda come firmano i maiani! E poi inizio di colpe di impegni, vabbè. Che vuoi? Ho anche detto, pure tu. Aspetta, qui mi fai apprezzata. Ma tu non quei morto? No, ho fatto pure un killone a sud. Ma come? Non mi fai aspettare te! Non rende la mappa diversa un po'. Non devi aspettare l'amichetta. Allora c'è uno in logro, vabbè, tutto e tutto uguale. Ha lo shieldone ed è fuori di tutti i mazzi, tranne di legna che ne ha 400. Wow. E' quello in logro secondo me è quello che sta a portare a casa. Sto pushando uno, gli ho fatto 19. E' un pesce secco. Abbastanza stupido, tra l'altro. Non è vero, gli ho fatto un 110 che madonna sandra, non so neanche lui come l'ha fatto. Però anche il pesce secco è bello che è tornato. Attenzione, pesce secco ha la meglio. Sto aspettando uno in AIG con la skin di Minecraft. Con la skin di Leo, eh. Che c'ha, che c'ha qua? Aiutami. Quello in AIG c'ha 20 di reino, il soldi mattone, il soldi ferro. Non ha lo shieldone, ha 80 di shield e 80 di vita. Sto messo bene. Le armi sono tutte uguali. Sì. Vado, vado, vado. Ah, mi ha preso, sì. Ah, ok. E' quello che sto aspettando che gli hai fatto, che ti ha fatto 23. Sì. Ehi, quanta vita hai tu? 33 e 90. Luca. Ok, c'è con l'altro. Ha meno vita di te. Ma siete voi due? Ma dai, oddio. Ok, siete solo voi due copiti per qualsiasi motivo, perché lui ha 80 di vita. Mi sta fuggendo. Attenzione, dovresti vincere. Ok, prendo uno, 24, 17, 10. Attenzione. Ma? Non sono solo io. Balla, balla, balla. Non l'hai visto? Non me ne era accorto che stava alla mia sinistra. Mamma mia, quanto capi senza cuffie. Che c***o? Io con gli auricolori capisco ogni cosa e poi tipo... Grande vittoria da parte di me. Grandi... Ecco il sovraccarico. Ma veramente, questo mi ha pushato. Io non ho ancora l'inventario fatto per bene. E dai... Ma che c***o capite, mamma? C'è che gente. Levirazione meritate, voi mostri malati che mi pushate. Levirazione. 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 Evirazione. Tu sei della ragione di te. Non vorrei farlo la figura dell'idioto che dice una cosa e poi è sbagliata. Però dovrebbe essere quando sterilizzano... Sterilizzano i cantanti per farli cantare meglio. Ma? Sì. Però non posso scopare. No, possono, però non posso fagli. Sterilizzare è diverso da... Da castrare. No, è la stessa cosa. Dai, sta laggando. Non lo so. Non lo so. Pesce secco distrutto. Laserato. Io c'è un maniaco che mi ha pushato più resiste. Oddio, ma io c'è un maniaco sopra di me che non me ne ho accorto che esistesse. Pensavo di essere da... Due, maniaci. No, una... Boxing! Boxing ha sbagliato l'atterraccia! No! 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 No, no, muori figlio di... Come? Come ha fatto a farmi tutto quel danno? Ma io pure io che c***o sono caduto da tre muri ma arrivato a 40 divinità. è tutto scemo, dove sta andando? ma questo stai impanicando un botto questo è assurdo un botto però questo ti avrai tipo le mani con te ma chi è? stai guardando il... un... cosa? come si chiama? la bombardina oscura si questo sta tremando, c'è paura ha perso tutta sta vita fuori dalla gente e dico, oh mio dio! superficie! ma ho vinto! ma ho vinto! ma ho vinto! ho vinto! ho vinto! sono troppo forte grazie mamma e tutte le persone che hanno creduto in me per questo giorno assurdo che è la mia vita sei wakata mi sei wakata ma ma che ci c'entra l'innolusso? ma che ci c'entra? parvo! in zona un cava buona per cambiare l'innolusso eh va be' ragazzi ho trovato la cosa che avevo detto eccola qua... il bomba vinto è morto è appena morto mamma sono morto mamma no, piccata subito grazie per la tua ti hai fatto il market ti hai fatto il market ma mi accettavo sto scappando ma non vediamo no boxy non vuoi piangere dopo il cervello a me taglio mamma mia è minuscolo come in quel c***o comunque il lutto è tutto uguale è una paranoia come hai fatto a prendermi l'aigran questo adesso non contento dell'aigran mi buscirà perché è un malato stavo in low ground con 80 di vita 3 punti tutti i mazzi la mia il mio cervello è minuscolo la grandezza del tuo c***o è direttamente proporzionale alla grandezza del tuo brain mamma mia sono tutti e due delle formichine piccolissime in difese questo ha capito che si può tirare il flop potrei vincere di flop ragazzi se benevittore ha molto ma questo è un minuto ok quello è un low ground tanto che c'è tu quanto di lui ha 3 flopper però è finito e uno sopra di me a 3 flopper a 3 flopper a 3 flopper a 3 flopper fa meno 2 eh allora fra mi fa che ti tocca pushare eh c'è pure quello sopra quale è il problema ah non so se lo vedevo no però mi sa che siete in 4 addirittura sì perché se a questo qua che è fatta con uno eh ok c'è questo qua in low ground con cinque pesci cinque pesci sicuro che ne ha 5 sì ne ha 4 e sta uno a mezzo alla strada sì ne ha 5 proprio quello il pesce investito in mezzo alla strada vabbè io c'ho l'handicap scusate vabbè ragazzi comunque spero che il video vi sia piaciuto credo finisca qui con una partita diciamo che l'abbiamo fatti quindi questo che cacchio vuole continuare il video madonna mia tanto se l'hai visto una persona siamo sinceri come ho detto se qualcun altro l'abbia visto e non è iscritto bella per lui se si vuole iscrivere ci vuole mandare la misita perché siamo così soli da fare sempre in due boom ha vinto ovviamente lince chi vincerà tra me e lui no la madonna non è uscito che ha visto